Born in the USA, I was born... Allora, siamo con Nicky Giussino, mentre aspettiamo qui all'hotel... come si chiama? The Russe? The Russe. Vabbè, all'hotel della Russia è l'arrivo di Bruce Preston. Chi è Bruce Preston? Diciamo paragonato a Michael Jackson. Vabbè, lasciamo perdere. Va bene? Ma che c'entra Michael Jackson? Il periodo storico. Sì, anni 80, 90. De bravura, diciamo, paragonato. È uno dei più grandi della storia. Parliamo invece di Squadra Antimafia 7, che tu sei molto più ferrato, te ne intendi. Allora, Marco Bocci che ti ha detto? Non mi ha detto niente, Marco Bocci è finito male. Ma poi ci stanno a buttare l'acqua, nì? Piscio d'artista! Ci stanno boicottando. Sai che c'è... Ci buttano l'acqua dai detti. Allora, c'è presente i film, no? Finiscono sempre sul più bello, la pubblicità, no? Te lasciano sempre col fiato sospeso, giusto? Eh, che vuoi dire, che vuoi dire? Marco Bocci gli hanno sparato a Calcaterra, no? Eh. È stato ferito alla Tempia. Ma sulla prima puntata? Non ti ho già visto? No. Gli hanno sparato proprio. Ah, è rimasto ferito. Esatto. Ora io mi chiedo... Ma dice che ora esce? Esce? Ma... Cioè esce dalla serie, quest'anno. Dice che Bolle sta con la sua famiglia. No, perché deve fare pure un'altra cosa, pure. Va bene. Squadra Antimafia, Squadra Antimafia, no? No, deve fare... Va bene, l'ha fatti pure 6 o 7. Non ti l'ha fatti tu. Allora, Squadra Antimafia, quest'anno non mi piace, però, attenzione. Non ti distrarre dalle belle ragazze che passano, eh. Perché non ti piace Squadra Antimafia? Quest'anno non mi piace. A me piace Squadra Antimafia dai tempi della Cavallari. Simone Cavallari, no? Ti ricordi? Sì. Ecco. Cioè, se se ne va Marco Bocci... E' finito. Il pezzo fondamentale di Squadra Antimafia, diciamo, no? C'è la colonna portante, si dice. Ecco. Non mi piace. Quindi smette... Appena uscirà Marco Bocci, ciò che diranno, gli hanno sparato un testa, morirà. Morirà? No, non muori. Beh, senti... Te lo dico io, anticipazione, l'ho letto sul blog e... No, non dovrebbe uscire. Non dovrebbe morire, scusa. Esce ma non muore. Lo spostano, mi sembra lo spostano. Vabbè, esce, in senso... Si sa che non muore veramente. Dico, esce dalla fiction, però. Esce, se ne va. Momentaneo. E io da quel momento spengerò la televisione. No. Spenga la televisione. E che... Ma, ok. Mo' inizia Tusikivalis.